Il giorno dell'operazione Il giorno dell'operazione è durata oltre 14 ore, avevo una paura fottuta. Anche se ho l'immagine da duro sono un ragazzetto come tu, mentre parlo. Il 29 anno si comuove più volte e si scusa con la conduttrice in studio, sono un camion e dice sorridendo, Ciofalo ammette di aver perso diversi chili, racconta di non poter fare sport, guidare o prendere un aereo, le preghiere mi hanno aiutato a superare tutto, non mi posso lamentare per come è andata con tu .